Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi è il 15 di marzo, andiamo a fare l'analisi sulle nostre candele veri. Ieri cosa è successo? C'è stato un dato molto importante sull'inflazione negli Stati Uniti, dove l'inflazione è da 6,4 e è passata a 6. In questo momento l'inflazione possiamo dire in America e anche in Europa sta calando. Però ieri abbiamo avuto una sorpresa sul Bitcoin. Il Bitcoin ricordate che era andato a 19.000 e tutto lo short se l'è rimangiato e ieri ha toccato un 26.553 ma non ha rotto la resistenza che si trova a 25.000. Andiamo adesso a vedere in dettaglio cosa è successo ieri. Allora come potete vedere qui abbiamo ieri stato il dato sull'indice dei salari medi che è stato uguale al mese precedente alle previsioni. C'è stata la variazione delle richieste di sostegno di disoccupazione che è stato veramente negativo. Poi vedete, guardate qua, il dato sull'indice principale del consumo 0.5. Guardate l'indice PC 6 è calato di 0.4. Poi l'IPC mensile è stato invariato dalle previsioni. E vedete che questo ha fatto salire i mercati. Oggi, oggi vediamo cosa c'è. Abbiamo attenzione alla produzione industriale nella Cina, 2F6 in positivo. Poi abbiamo un dato sul rilascio del bilancio annuale, attenzione a questo, dati importanti. Poi vendite al dettaglio dei beni essenziali. L'IPP vendite al dettaglio mensile e poi abbiamo le scorte di petrolio e si terminerà la giornata con il PIL. Grafici. Allora, l'euro dollaro, avevo detto che ha chiuso questo G3, sappiamo che questo è il minimo, non sappiamo se è partito, ha chiuso un ciclo di 3 o se lo chiuderà di 4. Vedremo cosa succederà se andrà a rompere quel massimo del 14 febbraio. Per momento la media 50, come potete vedere, sta da resistenza, non è stata rotta. Per momento anche qua tanta incertezza. Per momento vedete che le medie hanno girato verso l'alto. Per momento anche qui aspettiamo di vedere cosa succede se romperà quell'1,7,860. La sterlina per conto suo ieri, vedete che ha fatto anche lei, sopra la media 50, anche lei ha fatto una candela negativa. Per momento vedremo se andrà a prendere quell'1,2406, che è un punto molto importante. Poi, qui vedete che noi abbiamo già che questo è il minimo di partenza, ma direi che per momento la situazione è long. Finché non rompe la media 200, che fa da spartiacco, è inutile parlare di short per il momento. Il VIX, ieri dopo quella grande, vi ricordate quel grande rialzo, niente da fare. Siamo ritornati sotto questo supporto che prima era da resistenza, c'è tutto quello che ha fatto nei giorni 13 e 9, se l'è rimangiato e adesso si sta ritornando al ribasso. Attenzione, anche qui c'è tanta incertezza, per momento potrebbe essere solo una correzione, perché qui ho detto che la partita di un ciclo vedremo se andrà a toccare quella 34. Per momento possiamo dire che in dettaglio siamo in una fase di laterale, perché vedete che qui l'ha rotta con forza, però vedete che si sta ritornando. Vedremo cosa succederà nella giornata di oggi. Il DX, anche lui al momento, vedete che il DX ha fatto un'altra candela negativa, ho sempre detto che attenzione, finché non rompe quel 106, inutile, passa a aprire posizioni long. Poi andiamo a vedere il Dow Jones, che ieri vedete ha fatto una candela, ho detto attenzione, monitorare questo minimo, perché questo potrebbe essere la partenza di un ciclo, però attenzione perché abbiamo le medie di un mese e due mesi che sono rivolte verso il basso, siamo ancora sotto la media 200 e starei molto attento prima di fare qualsiasi cosa. L'SP500, come potete vedere la musica non cambia, ha fatto anche lui una candela positiva, ha rotto la media 200, le medie sono rivolte verso il basso, anche qui starei attento prima di aprire posizioni, scusate, al rialzo SP500, ecco, prima di aprire posizioni al riasso o al ribasso, per il momento anche qua per me c'è incertezza, per il momento aspettiamo, vedete che qui ho messo di monitorare questo minimo del 22 di dicembre, per il momento qua siamo ancora in una fase short, possiamo volendo metterci questo, attenzione, vado a metterci una estesa, vediamo cosa succede su questa estesa, la mettiamo così, vedremo se la romperà quella media estesa, per il momento anche qui starei attento, non facciamo niente, aspettiamo di vedere che cosa succede, qui siamo dentro nel nostro triangolo, vedete che faccio, vi vado a mettere anche questo, perché possiamo mettere anche qui, vedete che la metto così, staremo a vedere che cosa succede, siamo in questo triangolo, per il momento non facciamo niente, aspettiamo di vedere cosa succede sul nostro SP500, il DAX, un DAX che ieri ha fatto una candela positiva, ha recuperato quella discesa, però vedete che sarà una candela inside, per il momento qui adesso si sono girate verso il laterale, per il momento non facciamo niente, finché non rompe quel 15.755 si rimane tutto incerto, comunque siamo sopra la media 1200, che è rivolta verso l'alto, per il momento ci indica ancora il long. Il MIB, MIB, eccolo qua, il MIB invece lui ieri ha fatto una candela anche lui positiva, anche qui per il momento una candela inside, per il momento aspettiamo, non ci sono le condizioni, il trend per me rimane ancora long, aspettiamo di vedere che cosa succede nelle prossime giornate. poi il gold, un gold che dopo aver fatto quel 1914, qui aveva fatto 1914, ieri una candela negativa, per il momento anche qui però rimaniamo, le medie sono rivolte verso l'alto, aspettiamo, qui avevo detto che poteva essere partito il ciclo, per il momento qui rimane ancora long, attenzione, vediamo se riuscirà a andare a prendere quel 1984, siamo sopra la media 120, siamo sopra la media 200, qui aspettiamo di vedere che cosa succede. Poi il petrolio, oggi attenzione alle scorte di petrolio, un petrolio che anche lui ieri ha fatto, sta continuando a scendere, ieri ha fatto un 70,78, vi ricordate che io ho messo 62, qui adesso potrà andare a chiudere un suo ciclo, per il momento attenzione, perché qui rischia veramente di crollare il petrolio, per il momento siamo tra l'81 e il 77, adesso ha rotto veramente anche il minimo che ci è stato fatto il 6 di febbraio, questo è un minimo che di chiusura di ciclo potrebbe essere, vedremo cosa succederà, per il momento non si tocca niente. Il gas, vediamo come è il gas, un gas che ieri ha fatto un'altra candela, qui c'è il gas non si sta muovendo, è fermo, fase di laterale. Poi Bitcoin, guardate cosa è successo a Bitcoin, Bitcoin vedete che ieri ha cercato di romperla, siamo sulla candela, qui su Wikry, vedete che questa resistenza sta tenendo, ve lo vado a mettere sul grafico daily, eccolo qua il grafico daily, andiamo a vederci il nostro Bitcoin, eccolo qua, vedete che ha cercato di romperla, vedete questa resistenza che è molto forte, vedete che per il momento trend rimane comunque long perché hanno girato, vedete, però attenzione, io faccio attenzione anche questa qua perché la media annuale è laterale, questo potrebbe essere un minimo importante, vedete che dove lo vado a mettere, questo minimo qui può essere un minimo importante, vi faccio vedere anche il motivo perché quel minimo qua, anche questo, vedete che vi metto qui, questo era un minimo importante, vedete che se contiamo noi le candele da qui a qui, sono 109, potrebbe essere la partenza di un ciclo di 3, staremo a vedere che cosa succede, poi guardiamo anche come cosa importante, andiamo a vedere anche nelle nostre commodity, andiamo a vedere il platino, platino che è fermo, vedete dopo quella candela, seconda candela, anche qui rimane comunque al rialzo, per mentre le media hanno girato verso l'alto, questo sappiamo che è un minimo della ripartenza, vedremo se andrà a fare il pullback e invece il copper, niente da fare, siamo in una fase di lateralità, non si muove il copper e poi abbiamo il nostro orange juice che, l'orange juice che sta recuperato, comunque il trend di fondo rimane long. Io vi ringrazio, vi auguro ancora una buonanotte, ci sentiamo domani e buon trading a tutti.